buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è venerdì 18 agosto 2023 sarà una giornata calda le temperature salgono oltre i 30 gradi e quindi continuiamo un po a sperare così a immaginare una bella vacanza anche se qualcuno dopo il ferragosto è tornato al lavoro iniziamo subito con l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi oggi è sant'elena imperatrice e la madre di costantino l'imperatore che liberalizzò la pratica della fede cristiana lei stessa si fece cristiana si fece battezzare e fu importante perché andò in palestina ricercò il luogo del calvario dove era stato eretto un tempio di venere lo fece demolire costruì la basilica del santo sepolcro ovviamente la costruì la costruì poi il figlio l'imperatore ma lei fu una delle più importanti persone che incentivarono questa realizzazione e trovò la croce la croce che fu sminuzzata in tante reliquie che oggi si venerano in diverse parti del mondo è importante la madre di costantino il suo sepolcro è a roma perché diede un impulso veramente alla propaganda della fede cristiana questo per quanto riguarda il santo ora passiamo alle previsioni del tempo e dicevo che il tempo si mantiene caldo si mantiene stabile su tutta la regione vediamo appena appena qualche velatura qualche nuvoletta comunque le previsioni dicono bel tempo prevalente salvo instabilità pomeridiana in appennino i 20 sono moderati da nord sulle coste le massime raggiungeranno i 32 35 gradi mentre le minime si sono attestate sui 22 gradi i 20 sulle coste da nord mentre sull'interno una tensione debole da nord nord est ed ora andiamo alla concessione di spiaggia madre mio di senigallia dove troviamo laura tamborini buongiorno laura buongiorno 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 a tutti buongiorno a voi senta ci presenta questa mattina la sua concessione sì e allora con molto piacere la nostra concessione una concessione nata nel nel 1974 si è cresciuta pian piano nel tempo anche in si è evoluta nel senso che prima era semplice stabilimento balneare adesso abbiamo anche un peschetto con facciamo dei tanti gelati insomma ci siamo allargati un pochino come attività quanti ombrelloni a condizione familiare dicevo e abbiamo circa 100 ombrelloni di cui la maggior parte sono stagionali perché persone della zona che affittano questo ombrellone per tutta la stagione dagli anni 80 ad oggi ovviamente i servizi di spiaggia sono molto cambiati si sono perfezionati sono migliorati eccetera e sono anche aggiunti ecco qual è stata questa evoluzione secondo me il fatto di poter dare la possibilità agli stabilimenti da prerombar sicuramente è stata una cosa positiva per il cliente perché io vedo ci sono molte persone che fanno la giornata singola vengono la domenica senza portarsi il pranzo da casa borse frigo passare a far la spesa quant'altro si possono fermare qui semplicemente con una piedina un panino un'insalatona a basso costo e possono mangiare tranquillamente seduti al tavolo quindi questo sicuramente anche per chi ha bambini piccoli è stata una miglioria veramente gradita da parte del cliente è una bella vacanza è l'occasione che lei prospetta senta signore io leggo oggi sul corriere adriatico sulla pagina di senigallia a spasso volti noti e aspiranti vip senigallia sempre più da copertina è un titolo che ovviamente fa promozione alla località ma il centro è sempre la rotonda è sempre gembori ma è un sempre senigallia è una località sempre più così desiderata anche dalle persone note che fanno promozione lei le ha ospitate nella sua spiaggia allora io in passato ne ho ospitate c'è stato beppe signori c'è stato beppe grillo e ultimamente c'è stata anche la signora la tata della casa avianello di sandro del mondo è stato qui da noi altre persone potrebbero esserci state però io visto che vengono molto in sordina non amano mettersi in mostra potrebbe esserci state non ci siamo neanche resi conto ho capito ci vuole anche un po di privacy senta ai questi giorni in questi giorni a senigallia c'è un'iniziativa particolare le selezioni del grande fratello c'è una fila c'è una fila di aspiranti piuttosto lunga che amano partecipare insomma a questa è anche questa è un'iniziativa promozionale benissimo signora tamburini la la ringraziamo ci risentiamo domani per un nuovo appuntamento intanto le auguriamo buona giornata buona giornata tutti voi e tutti gli telespettatori ed ora buongiorno buongiorno ed ora passiamo alla lettura dei giornali abbiamo con noi il resto del carlino cominciamo con la prima pagina del resto del carlino dove vediamo che l'articolo di apertura anzi la foto di apertura è dedicata a quelle multa velox a quell'auto velox che è sistemato nei pressi di cagli che sta veramente facendo una strage di automobilisti che superano il limite di velocità il che ha permesso di sanare ma anche di rinpinguare il bilancio del comune auto velox da nababbi in titola appunto il resto del carlino e poi fanno pesaro cercasi alleanza per superare lo scoglio della discarica di riceci lo vedremo dopo nelle pagine interne una specie di alleanza si prefigura tra marche multi servizi e l'aset e poi un istituto che dovrebbe incentivare l'educazione l'istruzione dei giovani nella sua promozione fa un errore di ortografia il che ha suscitato un po di ilarità biancani contro baiocchi duello su pediatria il risico della sanità la sanità è sempre nell'occhio del ciclone e poi una iniziativa che riguarda pesaro coloro che sono malati di diabete potranno usufruire di uno sconto nel trasporto dei taxi nelle diverse località e poi la carta povertà fa arrabbiare tutti e questo il titolo di apertura la card del governo per i bisognosi ha veramente fondi limitati e pesaro su 4.020 diritto 3.000 restano esclusi e poi una iniziativa religiosa di grande partecipazione quindi di una certa importanza mille pellegrini sotto le stelle passeranno la notte facendo un percorso tra le valli e le colline del nostro territorio lo vediamo nella pagina interna allora apriamo il giornale e vediamo subito l'articolo che riguarda l'autovelox di Cagli autovelox da 3 milioni di incasso a Cagli non riescono addirittura a spenderli un terzo circa è andato per pagare le bollette delle bollette della luce del comune ovviamente e non per le strade altri 760 mila euro sono rimasti nel cassetto gli interventi straordinari sono fermi al palo nel 2021 il comune aveva elevato multe solo per 26 mila euro ora sono 3 milioni pensate quale quale aumento c'è stato si tratta ormai viene così chiamato il paese dell'autovelox tra i più renditizi di taglia Cagli 3 milioni e 150 mila di incasso nel 2022 943.185 euro delle multe sono stati spesi per pagare le bollette del gas dell'energia elettrica seppur ci fosse un contributo straordinario da parte dello stato per sopperire a queste spese guardando meglio il rendiconto si vede che la voce di manutenzione straordinaria delle strade per un costo di 650 mila euro la realizzazione dell'intervento è stato pari a zero insomma questi fondi sarebbero stati usati in maniera del tutto diversa rispetto a quelli che dovrebbero essere i canali preferenziali per finanziare gli interventi ovvero quelli della cura della manutenzione delle strade insomma quell'autovelox veramente desta molte molte polemiche si tratta dell'uso di uno strumento un po' eccessivo anzi direi abbastanza eccessivo rispetto alle finalità per cui sarebbe stato istituito e secondo l'avvocato luca paolini la macchinetta sarebbe stata cambiata nei giorni scorsi senza apparenti motivi ricordiamo che luca paolini ex parlamentare aveva fatto anche delle osservazioni dei ricossi per quanto riguarda l'uso di questa macchinetta che sarebbe stata posizionata in un luogo non corrispondente alle norme del codice della strada secondo l'avvocato ed ora passiamo ad altre notizie e vediamo l'articolo che riguarda una ipotetica alleanza tra pesaro e fano sui rifiuti per quanto riguarda le conseguenze del no dato alla discarica di riceci marche multi servizi esca d'aurora esposi aset e questa la proposta di un gruppo di ex amministratori e tecnici per ora c'è una lettera che sarà ufficializzata a breve è una proposta ovviamente non è certo ancora una delibera anche perché uno sposalizio tra aset e marche multi servizi non è una cosa semplice da fare dato che tra le due aziende non almeno tra le due amministrazioni è il modo di governare appunto questo settore delicato dell'amministrazione pubblica quello della raccolta dei rifiuti non c'è una certa sintonia da fano arriva una ciambella di salvataggio per il problema della gestione dei rifiuti dopo la messa in cantina della discarica di riceci a mettere sul tavolo così questa proposta è un gruppo di ex amministratori e tecnici di cui però per il momento non si fa il nome che hanno raccolto delle adesioni in maniera trasversale nel mondo politico ci sono esponenti del centro sinistra ma anche del centro destra e che per aggirare tutti gli ostacoli dicono a marche multi servizi di uscire da una situazione che vede appunto aurora imprigionare tutta la questione in una specie di scatola lasciando aurora marche multi servizi dovrebbe appunto lasciare un'intesa con l'aset di fano per riuscire ad organizzare questo nuovo progetto di deposito dei rifiuti e che cosa si indica in modo particolare si indica la discarica di monte schiantello che in questo articolo si dice che avrà ancora molti anni di vita in realtà molte volte è stato detto che la fine della discarica di monte schiantello è prossima e quindi bisogna pensare al futuro al dopo della discarica e qui la situazione però è controversa tiriamo ancora la pagina e vediamo il patto tra tassisti e diabetici per quanto riguarda pesaro sulle corse ci sarà un 30 per cento di sconto il costo fisso di 8 euro per le tratte del centro fino a muraglia il percorso è finalizzato a visite verso i centri sanitari a pesaro ci sono 10 mila malati di diabete su 90 mila abitanti e beh insomma un aiuto in più a coloro che soffrono di questa malattia vediamo anche un articolo che riguarda il roff Sara Blanc il ritorno dopo dieci anni la mia zenobia regina innamorata il soprano descrive l'applauditissimo personaggio di aureliano in palmira dovevo darle due colori e vediamo qui la bella soprano interpreti questo capolavoro di rossini l'istituto che vuole educare sbaglia e scrive un apostrofo di troppo vediamo un attimo questo è il cartellone promozionale che l'istituto ha pubblicato per ottenere delle iscrizioni ebbene è un istituto che vuole educare che vuole istruire però ha commesso lui stesso un errore e dov'è questo errore vediamolo è in questo punto lo vediamo proprio qui ecco in questo punto c'è scritto non so se riuscite a vederlo qual è il percorso più adatto a te ebbene qual è è scritto con l'apostrofo in realtà si tratta della caduta di una vocale e quindi non occorre l'apostrofo e non è una elisione l'unione di due parole attraverso l'apostrofo e insomma bisogna scriverlo senza senza apostrofo qual senza apostrofo e poi è e non qual apostrofo è ebbene questo errore ha suscitato delle così delle perplessità delle discussioni e ha fatto notizia ed ora vediamo anche la pagina di fano dove l'apertura è dedicata alla fiera di san bartolomeo che si svolgerà dal 26 dal 24 scusate al 26 agosto prossimo san bartolomeo mette tutti d'accordo soddisfatti operatori residenti ci sono diverse novità quest'anno per quanto riguarda la fiera di san bartolomeo prima di tutto la variazione del percorso e la fila delle bancarelle inizierà su viale adriatico all'altezza dell'anfiteatro rastat si dilungherà fino al porto e nella piazzetta antistante il faro dove sarà l'area riservata alla enogastronomia e poi attraverserà il ponticello sul porto canale e si dilungherà anche sul lungomare simonetti fino al largo seneca e anche qui ci saranno le bancarelle della fiera di san bartolomeo per la prima volta insomma la fiera invade il lungomare del lido sono circa 200 le bancarelle che parteciperanno alla fiera il percorso è lungo un chilometro e 800 metri e ci sarà anche una bella iniziativa che riguarda i bambini sotto la tessostruttura di sassonia per tutti i tre giorni della fiera dalle 14 dalle 14 e 30 alle 20 tutti i giorni ci saranno le postazioni dei bambini che potranno barattare i loro giochi acquistarli a poco prezzo cambiando riciclando appunto i loro giochi e quindi così divertendosi a fare del piccolo commercio ovviamente tutti i bambini che si iscriveranno alla fiera di san bartolomeo i posti sono 30 dovranno essere accompagnati dagli adulti una bella iniziativa questa sia di carattere commerciale perché alla fiera poi i presti sono piuttosto contenuti ma anche sia di carattere turistico perché la fiera fa sempre colore locale e attira tantissime persone questa sera un bello spettacolo alla darsena borghese si tratta della commedia interpretata dagli alunni degli istituti superiori della città che interpretano un brano della maria risorta la regista elena tonelli e lo ripropone dopo che la commedia è stata interrotta nei giorni scorsi a causa del maltempo si allestirà all'aperto l'ingresso è gratuito chi vuole sedersi deve prenotare ovviamente altrimenti sta in piedi comunque è una bella iniziativa perché affonda un po la sua attenzione accentra un po la sua attenzione sulla vita delle donne che facevano parte della marineria nei secoli passati lite tra associazioni confesercenti facciamo saltare il tavolo economico ebbene c'è stato un attacco della conf commercio alla conf esercenti perché aveva sponsorizzato la birra d'augusto che aveva attratto in sé un po tutta l'attenzione del centro storico accentrando appunto la gente nell'ex parcheggio della caserma montevecchio nel parcheggio dell'ex caserma montevecchio e ora ribatte la conf esercenti con stefano mirisola insomma c'è un batte ribatti tra mirisola e la presidente della conf commercio barbara marcolini vediamo la pagina di dell'entroterra sulla valmetauro ecco questo grande pellegrinaggio notturno stanotte il cammino di preghiera dal santuario mariano di cartoceto a quello di san giuseppe in spicello di san giorgio di pesaro una passeggiata una passeggiata di fede notturna che sarà conclusa con la messa del vescovo monsignor andrea andreozzi pergola bollette dell'acqua bonus fino a 250 euro a famiglia a fine mese la gru a santa lucia e siamo ad urbino diventerà abusiva è un appello questo che è stato lanciato dal dal da giorgio londèi e federico cangini del gruppo consigliare urbino e il montefeltro che hanno evidenziato come quella gru che era stata installata dal 2014 era ora che fosse smontata e il sindaco ha risposto che a fine mese il la gru sarà eliminata perché altrimenti diventerà abusiva ed ora diamo un'occhiata anche al corriere adriatico passando subito alla pagina di fano l'apertura è dedicata questa volta ai rinforzi per il commissariato si è parlato molto in questi giorni di ordine pubblico a fano per episodi di vandalismo e anche di furti che ci sono verificati nel territorio ebbene era stato promesso un rinforzo al commissariato di fano invece è arrivato soltanto un agente in pianta stabile e due agenti stagionali che saranno in servizio fino al 28 agosto ovviamente con questi rinforzi non è che si rinforza tanto il commissariato perché quello che serve sono pattuglie che controllino maggiormente il territorio se ne è reso conto anche il delegato alla sicurezza dell'udc stefano pollegioni che invita ancora una volta i parlamentari a rinforzare appunto l'ordine pubblico di fano ma anche il sindaco a coadiuvare gli stessi tramite la polizia locale paura al pelingo mi è franata la terra lungo la strada la disavventura di un fanese che è andato a trascorrere la domenica prima del ferragosto in un chiosco bellissimo che si trova sulle pietra lata alle spalle del furro ebbene ha preso una strada piena di buche è riuscito ad arrivare a destinazione ma quando ha posto in sosta la macchina la strada gli è franata e la macchina ovviamente è caduta sul terreno rigando tutta la carrozzeria per un danno lui dice da 2000 a 5000 euro e su questo appunto si rivarrà nei confronti del comune di acqualagna sarà una fiera traffico compatibile nessun ostacolo alla circolazione oltre 200 le bancarelle ma solo su viale adriatico non ci saranno bancarelle su viale dante alighieri lucarelli l'assessore ha presentato le novità di san bartolomeo insieme all'assessore barbara brunori che ha dedicato appunto la sua partecipazione alla presenza dei bambini e poi anche il corriere adriatico evidenzia la lite tra conf commercio e conf esergenti che dovrebbero essere diciamo la verità due associazioni che dovrebbero perseguire gli stessi fini ma in realtà qui le visioni sono un po diverse ed ora una notizia di cronaca per quanto riguarda piobbico padre e madre con tre bambini si perdono nel buio sul nerone l'allarme scattato alle 22 30 di mercoledì scorso si tratta di una famiglia belga i cui soccorsi sono stati resi ancora più difficili perché la famiglia parlava pochissimo l'italiano e quindi era difficile anche capire dove si trovasse e come potesse intervenire la squadra di soccorso era nel bosco di piobbico dove sono stati poi raggiunti dai vigili del fuoco e poi a fondo pagina invece abbiamo una reazione del sindaco di terre rovaresche antonio sebastianelli che affronta il caso di piange vandali il sindaco perde la pazienza ora denuncio dopo i fatti accaduti appunto a piange chiede educazione e giustizia è una cosa purtroppo ancora oggi difficile da ottenere nuove note nel paese della musica san lorenzo in campo dopo le band arriva terre sonore questa iniziativa che segue il festival jazz di fano che invade il territorio e ovviamente incentiva il livello del livello culturale di queste manifestazioni per san lorenzo music lab sul palco anche il sindaco dell'onti alle tastiere un sindaco che ama la musica e concludiamo la nostra rassegna stampa con le previsioni per quanto riguarda il caldo pubblicate dal corriere adriatico il caldo non molla nerone arroventa il dopo ferragosto ondate di calore oggi marche da bollino giallo domani allerta arancione in città ebbene cerchiamo un po di fresco ma non perdiamo l'occasione di vivere intensamente questa estate e qui noi chiudiamo i giornali vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani alle ore 7 a risentirci grazie grazie a tutti